Ben trovati, questa è una puntata molto particolare, inizieremo ascoltando il direttore generale della Cassa di Risparmio di Pisa Livorno e Lucca, con lui parleremo della vicinanza della Cassa di Risparmio alla CNA che si tramuta anche con atti e iniziative molto concrete e poi vedremo un'ampia intervista realizzata con Gino Baldi, il direttore generale uscente della CNA provinciale di Livorno, con lui faremo il bilancio della sua lunga attività all'interno della CNA, un'intervista sicuramente particolare, importante da seguire con attenzione, ma partiamo con l'intervista del direttore generale della Cassa di Risparmio di Pisa Livorno e Lucca. Perché questa vicinanza e anche questa attenzione nei confronti della CNA di Livorno? Beh, vicinanza da sempre, nel senso che nei nostri cromosomi di banca di territorio un legame è sempre stato importante con la CNA, oggi ancora di più e quindi abbiamo accolto assolutamente positivamente l'idea di essere accanto nel momento di un'assemblea come quella di sabato prossimo. Tra l'altro voi state preparando insieme proprio a CNA una serie di possibilità per essere vicini, prossimi, essere d'aiuto a realtà economico-produttive che in questo momento in cui la crisi morde, morde forte, insomma hanno bisogno di non sentirsi sole. Sì, il momento sicuramente è complesso in tutto il mondo ed è complesso anche nel nostro territorio. Con la CNA, come con le altre associazioni, con le istituzioni della città si sta facendo importanti collaborazioni sia a livello regionale sia con il Comune, ricordo la convenzione stipulata poco tempo fa con il Comune stesso. Stiamo ragionando anche con altre istituzioni. L'idea è di mettere a disposizione degli operatori economici, quindi degli artigiani, ma di tutti i piccoli operatori, degli strumenti di liquidità che consentano di attraversare questa fase che sicuramente è delicata per tante piccole aziende. Questo avviene quando si ha la possibilità di avere il polso della situazione, il polso del territorio. Grandi gruppi probabilmente hanno meno capacità di analisi e di contatto rispetto a realtà sicuramente come la vostra importante radicata e che sa cosa serve e cosa ha bisogno anche una comunità e chi lavora. Il radicamento è sicuramente un valore, noi l'abbiamo fatto nostro nelle scelte del Banco Popolare, che è la nostra capogruppo, di voler mantenere le banche forti sul territorio. Quindi siamo sicuri che questo sia un valore. Probabilmente oggi, se ripensiamo anche alle parole dello stesso governatore Draghi, in cui bisogna trovare dei modi nuovi per ragionare nel momento di credo, perché se ragioniamo con i parametri di sempre oggi diventa veramente difficile. Allora bisogna ragionare con la conoscenza che si ha dell'operatore, dell'artigiano, dell'imprenditore per vedere, al di là di quelli che sono gli ordinativi di questi mesi, che sono quello che sono, quali sono veramente le potenzialità che ci sono nell'azienda, la voglia che c'è nell'azienda di fare e di continuare a crescere, al di là di un momento che è difficile per tutti. Quindi oggi il radicamento della cassa di risparmio è sicuramente un grande valore. Salutiamo e ringraziamo il dottor Minotti, ma adesso vogliamo aprire una pagina che ha una particolarità e un'importanza tutta speciale. Gino Baldi, da 41 anni all'interno della CNA, è stato tra l'altro la persona che ha contribuito in maniera decisiva a far crescere, a far diventare ancora più importante questa realtà e lascia l'incarico di direttore generale. Lo farà sicuramente lasciando uno straordinario ricordo del lavoro che ha svolto, ovviamente con la certezza che lo ritroveremo in altre vesti, in altri luoghi. Ma qual è il bilancio che si può fare di questa lunga permanenza all'interno della CNA a Baldi? In questi giorni, pensando e salutando tutti coloro che ho conosciuto in questa esperienza professionale che mi ha visto partire in lontano 69 insieme a un'organizzazione che era l'organizzazione dei barbieri, oggi avere aziende che hanno 60-70 dipendenti e quindi organizzare anche la PMI, credo che dal punto di vista professionale ci possa essere solo soddisfazione. Certamente questo percorso è stato accompagnato da molti dirigenti artigiani che prima mi hanno insegnato il mestiere capendo quali erano i loro problemi e quindi man mano che cresceva l'organizzazione, io crescevo con lei, sono diventato imprenditore anch'io e quindi ho imparato da questi imprenditori, ne ricordo uno per tutti, Giovacchino Ciapponi che è stato un grande maestro soprattutto di vita oltre che di imprenditorialità, insieme credo a lui abbiamo creato un'organizzazione oggi che con battaglie, con successi e con difficoltà credo abbia rivali sul nostro territorio per la rappresentanza. Siamo riusciti a creare anche un'amalgama fra le organizzazioni a piccole e medie imprese creando impresa futura che oggi rappresenta una realtà su questo territorio anche se vi sono interessi diversi e che hanno portato anche all'elezione di Roberto Nardi nuovamente per acclamazione alla Camera di Commercio. Io finisco una pausa di lavoro importante che mi ha arricchito e grazie alla CNA continuerò a rappresentare l'artigianato all'interno della Giunta Camerale. Quindi un alleggerimento di lavoro, una pensione penso meritata, lascio un'organizzazione tranquilla dal punto di vista economico, anche questo non è poco, un grosso capitale patrimoniale, un'organizzazione in maniera capillare presente dall'isola di Baccole e Salvetti con uomini e donne all'interno con grande professionalità. Lo dirò benedì sera nel mio ultimo intervento, proprio questi giorni ho ricevuto dei complimenti da un'impresa che da poco si è associata e si fa amministrare da noi, viene dall'Emilia Romagna dove la nostra organizzazione è ancora più forte di quella toscana e ho ricevuto complimenti, quella è forse la migliore lettera che mi appaga più di tutte quelle che in questi giorni ho ricevuto, compresa quella dell'amico prefetto di Palermo, Giancarlo Tredigione. Lei, e uso dire ai suoi collaboratori, che tra l'altro lei ha contribuito a far crescere per preparare ovviamente anche il futuro della CNA, svegliatevi presto e andate a letto tardi, presidiate il territorio, lavorate, ascoltate, lei è stato sempre caratterizzato da questo suo tratto, l'ascolto e soprattutto la capacità di essere un passettino sempre più avanti rispetto anche agli avvenimenti o alle cose che accadevano. Questa è la sua preoccupazione anche per il futuro, cioè la CNA dovrà mantenere questo livello, sarà in grado? Me lo auguro perché chi mi sostituirà è stato vent'anni con me, io sono un uomo come diceva Rossini, presidente dell'Interporto, H24 e i miei uomini sono stati donne, sono stati allevate H24. Io sono un uomo capace di telefonare anche a luna di notte se necessario e quindi ho sempre preteso disponibilità e quindi mi auguro che questo continui perché credo che sia un insegnamento che ha pagato. Poi chiaramente oggi si volta pagina, io farò gli auguri in bocca al lupo a tutti ma credo che l'organizzazione abbia tutti i requisiti per migliorare anche quello che io ho fatto fino ad oggi perché è come un padre che lascia i figli, gli insegnamenti se sono stati ottimi credo che i figli, qualcuno può sdirazzare però credo che la maggioranza continui sulla linea intrapressa. Poi anche il nuovo gruppo dirigente che verrà eletto benedì sera credo che abbia una continuità e quindi da questo punto di vista saranno anche gli artigiani a portare avanti la linea che del resto anche negli ultimi quattro anni questa organizzazione ha portato avanti. Le faccio un'ultima domanda non prima di averla ringraziata a nome di Telegram Ducato per la collaborazione che c'è sempre stata ma non soltanto la collaborazione, l'amicizia e l'affetto che ha sempre legato lei alla nostra emittente e a ciascuno di noi e questa è una cosa che non passa al di là delle cariche e degli incarichi. La domanda è questa, a chi vuol dire grazie e a chi vuol chiedere scusa. Grazie a tutti quelli con cui ho avuto modo di collaborare e compreso la vostra emittente che ho sempre trovato disponibile e credo che ci rivedremo perché non credo che questo rapporto termini oggi. A chi scusa? Beh, io a volte ho un carattere un po' pesante e quindi scusa a tutti quelli dove sono stato ingombrante. Credo che da questo punto di vista, nonostante anche l'ingombro, con tutti ci sia un ottimo rapporto.